Un cadavere è stato trovato nel parcheggio dell'ospedale Morelli a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento non si conoscono i dettagli del ritrovamento. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la vittima sia stata coltellata in un altro luogo e successivamente lasciata nel parcheggio dell'ospedale. Sconosciuta l'identità della vittima in quanto trovato sprovvisto di documenti. Presumibilmente l'uomo è stato accompagnato in ospedale da tre uomini arrivati a bordo di un'automobile che lo hanno lasciato sul posto e sono scappate via. Sembrerebbe anche che l'auto usata sia stata ritrovata a Villa San Giovanni. Sul posto la squadra mobile la scientifica per far luce sull'accaduto.